Qual è la spiritualità ignaziana? Al valore della speranza, in un momento anche della mia vita in cui non vedevo con grande chiarezza il futuro, che cosa anche fare della mia vita, è stato questo motivo di una speranza, cioè di una speranza che poi è collegata alla fiducia, ma di una speranza che il Signore parla al mio cuore per realizzare qualcosa di bello nella vita. E' questa speranza fondamentale, quindi non di una cosa o dell'altra, ma piuttosto la speranza di un senso nella mia esistenza, che è stato il modo in cui il mezzo attraverso cui mi sono avvicinato, scoperto, ho cominciato anche ad apprezzare la spiritualità ignaziana. Poi qui si sono aggiunti tutta una serie di altri elementi, anche nel discernimento, che mi hanno fatto capire meglio che cosa dentro di me invece si opponeva, quali erano eventuali resistenze a questa speranza, a questa apertura. Ma certamente questo è stato un passaggio fondamentale, che ha significato un cambio, direi, definitivo, nuovo nella mia vita e che poi ha determinato anche tutti i passi successivi. Grazie.